e la gente buongiorno un breve passaggio per farvi vedere il capitano kirk che dice una cosa interessante e tra l'altro vi faccio vedere una cosa che ho scritto che potrete usare perché diciamo che siamo in questa condizione qua ci vengono a spiegare cose che abbiamo imparato diciamo tutti quanti le medie per cui è una scena abbastanza penosa infatti alcuni produttori di video qua su questo sito hanno deciso di disabilitare i commenti ovviamente i bevipalle trademark dicono sempre ah hai paura dei commenti in realtà si sono rotti il cazzo di sentire dei poveri imbecilli che sono rimasti fermi alla terza media e per cui diciamo che andiamo subito a vedere e il capitano kirk cosa dice e tutto nella tua testa come provi quello che pensi esiste quando pensi esiste se il contrario mi dice perchè molto altissima cosa si torna essentially un più una cosa che ti chiedono così se i figli molti quanti studenti gli anali vengono da due fenomeni, no, se loro li osservano, no, troppo lontano, come sappiamo che quello che dicono è vero? Come sappiamo cos'è? E' tutto science disso. Cosa fanno? Ovviamente ridono e applaudono, no? Perché lui è un attore e dato che ha fatto Enterprise, no, Star Trek. Allora, no, c'è, scherza, no? Scherza sempre, ma non mi sembra che stia ridendo. No, well, science fiction, says, this is a story that I'm making up, and there's this thing called wormholes, and that's a science fiction concept, although the scientist says, say, wormholes. Come lo sai? Tutte le cose che ti dicono, i wormholes, tutte queste cazzate inventate che poi c'è, e di prova cosa c'è? Il disegnetto fatto anche con un Photoshop di vecchia generazione, perché ci sono molti più effetti speciali che li usano nei film e viene meglio della versione ufficiale, no? Strano, perché la nasa si pippa una botta di milioni al giorno, al giorno, eh, no? Al mese o all'anno, al giorno, per fare quelle robe che vi mostrano. Inoltre, dice, uno gli chiede, scusa, tu che hai fatto il film? Secondo te che differenza c'è fra science e science fiction, cioè scienza e fantascienza. The mystery of science fiction is what I'm talking about. Science and science fiction are essentially the same. Are essentially the same. L'altra volta aveva detto are both the same, cioè vuol dire sono la stessa cosa. E detto questo, buona ricerca, fratelli. Grazie.